A volte a noi preti, a noi cristiani ci capita di avere gli abiti da clown, si dice la verità più vera che c'è al mondo e la gente un ci crede, un ci crede perché è un tema complesso che vale la pena di essere riflettuto. È iniziato così, con l'obiettivo di approfondire l'esperienza cristiana e la riflessione sul catechismo in occasione dell'anno della fede, il percorso formativo YouthCat, promosso dal Centro Pastorale per i Giovani della Diocesi di Arezzo, Cortone e Sansepolcro. Sei appuntamenti nella chiesa di San Michele, nel centro di Arezzo, dedicati al simbolo della fede, alla chiesa, ai sacramenti e alla preghiera, guidati dalle catechesi dell'arcivescovo Riccardo Fontana. Il primo incontro, trasmesso in diretta su TSD, ha avuto come tema l'uomo capace di Dio, la rivelazione. L'arcivescovo Fontana ci ha coinvolto in questa iniziativa che si chiama YouthCat e abbiamo ritenuto, io e la mia ragazza, che fosse molto importante partecipare anche per renderci conto appunto di cosa significhi questo argomento che a volte per ragazzi molto giovani può essere anche complesso. Un'esperienza che reputo utile per me perché la reputo un progetto di crescita sia personale e in futuro anche da riportare agli altri. Questo è il primo incontro di una lunga serie nella quale poi approfondiremo tutto quello che è il nostro percorso e i nostri fondamenti della fede cattolica. Se è vero che Dio sa tutte le cose e Tommaso dice in maniera...